Dottore, non dobbiamo proprio fare questo confronto? Eh, un po' tardi per tirarsi indietro. Andiamo a ripassare piuttosto. La prima. Notte, non mi muoio un'altra volta, che qui mi serve. Non muoio, giuro. Come stai? Mi sembra ancora un po'... Benissimo. Sarebbe un brutto danno d'immagine. Il ministro delle telecomunicazioni costretto a dimettersi per problemi di salute. Mi sta dicendo che ha pensato a me? Dottore, ben arrivato. L'aspetto a un giuppo alla prova dell'inquadratura. Le sto chiedendo come sta? Veramente? Bene. Veramente. Andiamo a fare sta tarantella. Prego, fa questa festa. Lo vedevo guardare. Oh, via quel bicchiere. Sono un essere umano, bevo. Mi raccomando, quelle luci. Ricordatevi chi è il padrone della baracca qui, eh? Veramente sarei io. Non l'hai incomodato d'uso. Dammi il piano su di qui. Stringi sul pericolo. Perfetto, perfetto. Lo sberlucicchio è fantastico. Lo sberlucicchio è fantastico.